ragazzi vi ho lasciato a sto punto però questo video uscirà subito dopo quello delle sei perché purtroppo non sono riuscito a finire la missione perché i ricognitori erano buggati e quindi mi ha fatto fallire la missione e non mi è piaciuto per niente questa cosa però noi qui cominceremo appunto dall'ultimo check point meno male mi ha dato un po più di tempo no ho sbagliato così me e chiunque i giganti mi hanno dato parecchi che qui perché praticamente lo faccio con l'intro perché se lo so più tempo riuscirò almeno a pubblicarlo fino alle... adesso ricognitore non ti pagare più perchè sennò ti giuro ti ammazzo di botte ecco dai muoviti... nooo non si deve cominciare una fatta cosa vabbè sentite ragazzi io vado a fare la missione di maria perchè sennò riconosce di nuovo sta cosa ora velocemente a pensare al gigante qua ok però che questa missione non dovevo dividere in due parti però purtroppo ho dovuto per forza fare così ok missione è completata ora andiamo avanti vediamo se riusciano a scusare questa gigante in questi pochi secondi no non ci riusciamo no 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 Ok abbiamo dato una mano al ricognitore o quel che sia, ora andiamo subito a fare la missione di qua, andiamo a iniziare il ricognitore, ok forzissimo a fare tutte le missioni, perfetto Gigante eliminato, ora il ricognitore avanzerà, faccio la prossima missione, per favore, veloce anche, perfetto, fatto, missione completata, ora ho bisogno di riconi immediatamente, si può ricostruire, si si può ricostruire e la ricostruiamo come base di quani giorni, ora diamo una mano là in fondo che mi hanno chiesto, verocemente anche per imparare tutti i passi di B, o no c'è punto che mi hanno chiesto, ma è stato fatto un giugno giugno, piuttosto che mi hanno fatto in giugno, dritto, poi tratta un giugno, ora, direi, la collo, ora, avanciamo, avanti, ok dai 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 dai, lo prendiamo bene, io direi, accettaviamoci questo gigante, Non si sa mai Certo, ma è catturato Solo lì in fondo è catturato Ok Ok, prendiamo le braccia Ora Le gambe Non so se lo catturiamo Ora Andiamo a stare qui anche da tanti Ok Ok Poi, andiamo a stare qui Poi, andiamo qui Purtroppo Segnare ai gilanti con il lato punto trogato Perché non li abbiamo mai Disserti infatti Però, io Senza dubbio Di uscire basta Solo quello li ho catturato Perché non li ho catturato e ne sono fanati altri due, eh ma che cavolo allora ora, questo posto dobbiamo assolutamente eliminare tutti i studenti, altrimenti non sappiamo andare avanti eliminato con un po' percai ervin è stato catturato ervin è stato catturato è una porta in Italia i nostri sono molto scatturati, wow vabbè, nemmeno non possiamo anche aspettare ecco, mettiamo i risultati di questo colpo non c'è parte che ha più giusto per stare a me non so che ho mandato, non so che ho la controlla non so che non so che non so che non so ma non so che 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 non so allora, andiamo a pensare alla non-mossa davanti ah, ahia, ahia fermiamoci una bella ok allora, ripostiamo e la bombiamo ora mettiamo altri giacchi ora, riportiamo le giacchi ok, ora, riportiamo le giacchi e via prendiamo il sale degli altri prendiamo da una mano soprattutto al riprenditore da davanti mi interessa se si targettano quindi mi interessa per niente e voglio restare tanto da davanti non so che cosa vuoi dire velocemente non darà per fatti sia nessuno la fine telegasso e lo so, lo so, lo so, lo so ho fatto e lo so... Già, non c'abbiamo manco una base di produzione, perfetto, base di produzione è costruita, ora, andiamo ai minimi di campi davanti prima che faccio i problemi. Se lo mostro ti lascio tutto, lo mostro ciò è un video di testo, andiamo a stare al gigante che sta bucciando, andiamo a trovare l'automatizzata in 2-3. Allora, la stanno buttando l'automatizzata, la mi interessa, adesso. Ecco, continuiamo a correre. Noi abbiamo fatto il chimico, praticamente, ma c'è solo questi giganti qua davanti. Qua facciamo una strada. Ora, facciamo i giganti che stanno in davanti. Allora, non l'allora che faccio? L'avanti sonoate che stanno in davanti. Ci sembra una brucia che stanno in davanti. Allora! Allora, ora, facciamo i giganti. Allora! Ciao, facciamo i giganti. Allora, facciamo i giganti che stanno in davanti. Questo gigante si sta colgendo di mezzo, però vabbè... 60 bersagli eliminati, non si può fare 60, però vabbè... Ora, il gigante qua davanti, e poi torniamo a chiudere... Ora, Rimmir è giusta per noi, sperando che non lascia un altro incontrumore... Alla prossima. Alla prossima! Scena è finita, ora... Siamo stare più tranquilli... Sì, è stato un po' di riuscire a casa, e poi andiamo a fare il mio figlio. Il mio figlio è diventato in un po' di più profondità. Il mio figlio è un po' di riuscire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è il continuo delle 6, andatela a vedere, iscrivetevi, lasciate un piaccio, commentate e condividete con i vostri amici, attivate il campanile e iscrivetevi al canale che vi ho messo in descrizione. Rispondete ai precedenti sondaggi, soprattutto per l'ultimo, e scrivete ai miei commenti quale volete che sia il nome della nuova serie di Minecraft. Ciao ragazzi, ciao!